Ecco, io adesso mi sentirò ancora più nana rispetto a qualcuno prima che ho intervistato perché sono qua in mezzo a due top model, una con un po' più esperienza e invece Martina la sua prima esperienza. Allora, vi presento Martina, se vuoi dirci anche il tuo cognome. Francaviglia. Francaviglia e Serena Morico. Morico. E tu già un po' di esperienza hai, quello che mi hanno detto, mi hanno ragazzo. Allora, raccontaci, parliamo da chi ha più esperienza, dai, così lei intanto si prepara a dirci due paroline. Serena, raccontaci un pochino le tue sfilate, le tue passerelle, dove ti sei trovata meglio, dove ti è piaciuto di più sfilare. Ma diciamo che Milano è ovviamente la capitale della moda e di conseguenza qualsiasi esperienza uno può e ha la fortuna di poterla fare a Milano è sicuramente speciale. Fashion Week, sempre. Fashion Week. Fashion Week. Hai sfilato per grandi nomi? Ho sfilato per brand importanti, sì, diciamo, sì. Bene, non lo vuole dire. Allora, andiamo da Martina, invece, che questa è la sua prima esperienza, diciamo, Fashion Week, quindi la tua prima esperienza vera nell'alta moda. Sì. Com'è andata? Beh, è stata una bella esperienza, diciamo, come è la prima volta, posso dire sì, mi è piaciuto tantissimo. E riagitata, rimozionata? Sì, un po' agitata, sì. Vabbè, è una cosa normale. Ma qua tu sei alta, perché tu sei altissima. E sei senza tacchi. Un'ottanta. Un'ottanta. Mamma mia, io penso che non sono manco come te con i tacchi. Quindi, allora, la prossima esperienza che farai sarai un pochino più preparata, sarai un pochino più backstage con me. Sì, sì. Cosa ti è piaciuto di più di questa, non come stilista, dico, c'è il trucco, il parrucco, sfilare, cosa ti è piaciuto di più? Quasi tutto. Mi è piaciuto un po' di tutto. Tutta un'emozione oggi, tutta un'emozione nuova. E invece te Serena, cosa ti piace più quando vai a fare una sfilata? Cos'è la parte che più ti piace, che più vivi con... Diciamo che per me il momento della sfilata, essendo una vera e propria passione, la vivo come un momento magico dall'inizio fino al cambio finale. E dal backstage fino adesso, dove sei comoda, diciamo. Sì, esatto, esattamente. Va bene, noi vi ringraziamo, è stato un piacere avervi intervistato. Grazie. E quindi spero che ci vedremo alla prossima Fecio Week. Va bene? Speriamo. Grazie, grazie mille. Grazie.